Questo è il presidio, è a casa di Emilio perché Emilio sta ai domiciliari, perché sta aspettando l'estradizione, l'esecuzione di questo mandato d'arresto europeo per una cosa di cui tutti si riempiono la bocca, cioè per la solidarietà con i migranti al confine, che è una cosa di cui parlano tanti, e Emilio questa cosa l'ha praticata, l'ha praticata al confine con la Francia sempre per aiutare il passaggio di queste persone che cercano di scappare dalla guerra, dalle situazioni in cui vengono, l'ha fatta anche difendendosi dalla gendarmeria che cercava di impedirlo e per questa cosa qua, che è una roba che riguarda le coscienze di tutti, in realtà Emilio adesso sta aspettando di essere portato in Francia per essere processato e quindi a questo presidio qua sotto è in attesa che si lo vengano a pigliare per dire che comunque non è che tutti sono d'accordo e assistono con indifferenza a questo scempio qua.